I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Napoli, del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta dalla Procura della Repubblica di Napoli, Direzione di Strettola Antimafia, a carico di 28 persone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata a traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e riciclaggio. Le indagini hanno consentito di svelare l'operatività di un sudalizio criminale con base operativa in provincia di Napoli, facente capo al noto narcotrafficante imperiale Raffaele, dedito all'introduzione sul territorio nazionale, all'esportazione verso altri paesi, tra cui l'Australia, di ingenti partite di cocaina. Imperiale ha fatto sì che lo stupefacente proveniente dal Sud America, nascosto all'interno di container, raggiungesse via mare ai principali scali malittimi commerciali europei, grazie ad accordi, alleanze e joint ventures intrecciate a partire dal gennaio 2017 con narcotrafficanti sudamericani ed europei di primissimo livello. Giunto sulla terraferma, lo stupefacente veniva prelevato e trasportato su gomma da autotrasportatori compiacenti per essere occultato all'interno di depositi, covi e nasconditi nella disponibilità dell'organizzazione in Campania, Calabria, Mila Romagna e Lazio. Imperiale è stato capace di assurgere ad un ruolo assolutamente primario quale broker internazionale della droga. L'associazione per delinquere, oltre ad avere articolazioni in Europa, Africa e Sud America, ha intrattenuto stabili rapporti con clan camorristici di tutto il napoletano, nonché con organizzazioni di stampo mafioso operanti in Calabria. Gli appartenenti all'organizzazione erano in costante contatto tra loro grazie ai sistemi di comunicazione crittografati. Tali attività hanno portato alla completa ricostruzione della cerchia relazionale di Imperiale, non solo in Italia, consentendo di identificare soggetti che coordinavano la gestione del denaro, impartivano l'isposizione ai corrieri dello stupefacente e gestivano gli automezzi utilizzati per il trasporto della droga del contante e in generale la filiera logistica a supporto dell'organizzazione. Nel complesso gli investigatori hanno ricostruito da marzo 2020 a marzo 2021 movimentazioni di cocaina per oltre 7 tonnellate, di cui 1,3 sottoposto a sequestro in Italia e all'estero.